Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo di strategia di gara Allora ragazzi prima di iniziare una doverosa premessa se tu sei un esperto di simracing, di motorsport, conosci già questo mondo ovviamente ti invito a continuare a guardare questo video perché i tuoi consigli che scriverai spero nei commenti saranno preziosissimi per me per arricchire e offrire ancora di più questo tipo di contenuto per chi si affaccia al mondo della simulazione e perché no, se dico qualche fesseria non esitare a correggermi qua sotto e ne approfitto per chiedervi un pollice in su sulla fiducia per questo video e iscrivetevi al canale, tanto è gratuito ed attivate la campanellina Allora ragazzi iniziamo con la strategia di gara intesa nel suo senso globale di quello che rappresenta la strategia di gara ovviamente ci occupiamo di quelle gare in ottica campionato, classifiche, di una certa durata perché se sono gare sprint ragazzi, gasta martello e ciao la strategia di gara non va interpretata come la semplice strategia che si fa ai box fermate eccetera ma è bensì come l'insieme di tutti gli allenamenti, gli studi che si fanno prima di arrivare al fatidico giorno in cui ci si trova in griglia di partenza in attesa del semaforo verde la prima cosa da fare, sembra banale ragazzi, ma è configurare le vostre tastiere configurare le vostre button box, le vostre button plate delle vostre corone perché dovete essere in grado di poter ritrovare rapidamente e in modo efficace i pulsanti in caso di necessità in gara cioè è impensabile andare in gara e dire ah devo cambiare strategia, aspetta un attimo non è possibile, è impossibile sembra banale ma è importante dov'è il pit limiter, dov'è il punzante per la classifica lo dovete sapere, il cambio della telecamera queste robe sono importantissime se non ve li ricordate ci sono degli stickers, scrivete sopra radio, pit stop, cesso, quello che volete seconda cosa smettetela, vi prego di fare hot lap gli hot lap vi servono per capire il vostro limite capire il limite della macchina ok, affinare un attimino il setup per la qualifica che è importante per carità di Dio qualificarsi bene ok, il mio best time è 1 e 20 stop, finito è inutile andare a grattare il decimo non serve a nulla non serve a nulla vi serve unicamente se avete dei time trial da fare allora sì, ok ma per la preparazione delle gare non serve la preparazione delle gare ovviamente è importante fare pratica cioè andare a fare simulazione di gara per andare a capire quanti stint dovete fare quante fermate i box studiare la vostra media del tempo sul quale sarà il vostro ritmo di gara quindi allenatevi con la benzina che vi serve per portare avanti il vostro primo stint e soprattutto anche per capire il consumo delle gomme lo step successivo ovviamente sto provando mi sistemo mi cucio addosso un setup se non avete le basi su un setup ragazzi c'è tanta documentazione in giro tanti canali youtube che vi aiutano ok, è un consiglio che vi do è unitevi a una comunità perché condividendo con delle persone che fanno la stessa vostra che hanno lo stesso vostro hobby avete la possibilità di poter avere delle informazioni e dei consigli unitevi alla comunità di sim drivers il discord lo trovate un po' ovunque in descrizione o in testa al canale in testa all'home del canale sui setup c'è una doverosa precisazione da fare contrariamente a quanto si possa pensare tutti i simulatori non gestiscono allo stesso modo i setup, i comportamenti delle macchine o meglio cambio questo e succede questo quindi bisogna avere una profonda conoscenza del simulatore per capire come funziona perché sì ci sono guide eccetera eccetera sul setup e su come dovrebbe funzionare la modifica di un setup ma non è detto che funzioni anche nel simulatore quindi serve anche lo studio di come funziona un setup dell'auto in base al simulatore che utilizzate quello che è di fondamentale importanza quando affrontate una gara è quello di avere la conoscenza profonda e a memoria quasi meccanico di quello che è il layout del circuito dovete conoscere a memoria ogni singola curva sembrano scontate queste cose ma c'è gente che non si prepara poi arriva e dice ah la curva ogni curva dovete sapere come affrontarle in che marcia qual è la traiettoria ideale qual è la traiettoria alternativa in caso di lotta qual è l'alternativa delle marce da utilizzare in caso di condizioni meteorologiche diverse da quello che è magari il pieno sole fare attenzione alle temperature dell'asfalto perché incidono il consumo e il comportamento della gomma sono tutte cose che dovete studiare quindi fare hot lap non serve a niente mettetevi in tutte le condizioni diciamo più o meno possibili in modo tale da avere un massimo di conoscenza possibile delle informazioni possibili che vi permetteranno di reagire azione e reazione a quello che saranno eventualmente gli imprevisti in gara oltre a questo vi consiglio fortemente di identificare e memorizzare dei punti di riferimento per le staccate ad esempio che non possono variare durante la gara il cartellone in polistirolo ragazzi non è un punto di riferimento che è fisso anzi nelle gare ha la tendenza a scoppiare e tutte e tre il 150 e il 150 scoppiano sempre e quindi non ci sono più i cartelloni come faccio ho preso dei riferimenti che non si muovono che ne so un disegno su un muro una griglia quello che volete l'importante è che abbiate un riferimento sul quale poggiarvi nel caso in cui i segnali saltino via un'altra cosa molto importante per quanto riguarda sempre la strategia di gara è identificare quei punti critici in cui potreste essere attaccati o che potete attaccare per superare così da poter anticipare le mosse del vostro avversario per difendervi o anticipare le mosse del vostro avversario per poter attaccare detto ciò ragazzi arriviamo a una delle cose fondamentali per quanto riguarda la strategia di gara ed è quello di studiare la propria consistenza o meglio il proprio ritmo di gara o passo gara chiamatelo come volete che è praticamente un tempo di riferimento sul quale ci si basa e si gira intorno a quel tempo o si cerca di girare intorno a quel tempo è un tempo safe di comodo per voi che non è complicato diciamo raggiungere e ottenere perché? proprio perché non bisogna andare in pista e cercare di fare il giro sempre più veloce e quindi ci puntiamo a un tempo di riferimento tale che come dicevo possiamo raggiungerlo con una certa tranquillità ma che ci permetta comunque di mantenere una certa performance la consistenza la consistenza non è nient'altro che l'insieme di tutti questi giri che abbiamo fatto più questa media è vicina tra loro tipo che ne so 1,20 1,25 1,22 1,23 più viene calcolato con una percentuale che si avvicina al 100% più è alta e più è buona la nostra consistenza da cosa è influenzata la consistenza? ovviamente dagli errori che sono commessi perché se uno fa un tempo più alto è perché ha commesso qualche errore qualche uscita di pista infatti i piloti che riescono ad essere molto costanti ad avere una consistenza più alta sono quei piloti che fanno meno errori ho detto la stessa cosa ma qual è il beneficio allora di una consistenza di questo genere qua e di imporsi un obiettivo più basso di quella che è la performance più alta che possiamo fare? molto semplicemente la condizione psicofisica al quale vi state sottoponendo se voi siete sempre tiratissimi a fare il vostro best time per tutti i giri a un certo punto l'errore è dietro l'angolo ok? e in più la gestione delle gomme diventa un po' incasinata siamo sicuri che manteniamo le gomme fino alla fine la gestione delle gomme il consumo invece se voi avete un passo gara che è leggermente inferiore da quello che è il vostro potenziale tempo migliore avete tanti benefici il primo è che avete sempre l'asso nella manica perché avete sempre quel mezzo secondo a giro che potete andare a ripescare se ad esempio dovete fare un attacco secondo avete più risorse psicofisiche per la gestione della gara e soprattutto siete più sereni a gestire eventuali imprevisti ok? siete più sereni e oltretutto avete una gestione di gomme migliore insomma avete una situazione molto più serena per quanto riguarda la gestione della gara in se stesso un'altra cosa è che questa serenità aiuta a mantenere il focus e quindi la concentrazione in gara ovviamente la concentrazione è aiutata anche dal fatto che non ci siano elementi esterni che vi possono disturbare ad esempio è consigliabile non essere in discord o in canali vocali dove tutti parlano oppure anche l'ambiente intorno a voi che ne so evitare di avere gente che vi distrae televisione accese eccetera per rimanere focus questo in più vi dà la possibilità a questa concentrazione di poter avere la capacità di